Oggi è sabato 15.30, ci troviamo al nuovo di Castelfrentano per la terza gara di andata del campionato provinciale giovanissimi, Girone Chieti, l'arbitro della sezione Aglia di Lanciano, fra poco faranno l'ingresso in campo delle due squadre, Virtus Castelfrentano, Giovanile Chieti, la Virtus Castelfrentano indossa la classica divisa giallorossa, mentre la Giovanile Chieti la neroverde famosa. Ci saluti, vanno a salutare le rispettive. Ecco, fra poco l'arbitro darà il fischio d'inizio. Ok, fra poco l'arbitro darà il fischio d'inizio. Questa è la terza giornata di andata. Iniziato la gara.